Una vasta operazione di mafia svolta dai poliziotti della squadra mobile della sezione investigativa del servizio centrale operativo di Caltanissetta e del commissariato di Gela ha portato all'esecuzione di 55 misure cautelari per associazione per delinquiti di stampo mafioso, intestazione fittizia di beni, estorsione e traffico di sostanze stupefacenti e possesso di armi ed esplosivi. Le indagini hanno fatto emergere la coesistenza di due gruppi criminali che investivano grosse quantità di denaro per la costruzione di serre per la coltivazione di marijuana. La droga veniva poi spacciata nel territorio o usata come merce di scambio con l'antrangheta calabresi per ottenere cocaina e ascici. Venivano importati circa due chili di droga alla settimana, quantitativi sufficienti a generare guadagni per milioni di euro mensili. Le attività criminali sono state aumentate anche grazie alle intercettazioni telefoniche effettuate durante le indagini oltre ai sequestri per circa 1000 chili di marijuana. Immersi inoltre una collaborazione tra gli indagati e gli associati della strida argelese. Durante l'operazione che ha convolto circa 500 uomini e donne della Polizia di Stato sono state anche sequestrate una villa con piscina e un'auto di grossa cilindrata. Catania in sette giorni è arrestato tre volte, la terza va in carcere, aveva estorto il pieno dell'auto a un minorenne. Un pregiudicato catanese 25 anni è stato arrestato per tre volte, dapprima per estossione dei carabinieri della stazione di Piazza Dante, poi per evasione degli arresti domiciliari da parte dei carabinieri della stazione di Librino e infine è finito nel carcere di Piazza Lanza sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziare che è inteso aggravarne la misura cautelare. L'uomo si era reso protagonista di un episodio estortivo ai danni di un minorenne che, come testimoniato anche in un video, si era formato per fare rifornimento di benzina al proprio motociclo, ma era stato costretto a pagare il pieno di benzina per quasi 100 euro all'auto del 25enne. Controlla un caseificio abusivo. Sequestrata l'attività è denunciata a due persone per violazione norme igienico-sanitarie e per furto di energia elettrica. L'ispezione è scattata a seguito di una mirata attività info-investigativa, eseguita nei giorni precedenti che hanno permesso agli operanti di capire come all'interno del caseificio vi fosse una produzione abusiva di formaggi, testimoniata anche dal consistente vieva di persone. Oltre al deferimento dei soggetti è scattata anche la chiusura dell'attività abusiva, nonché il sequestro dell'intero locale adibito alla produzione dei prototti caseari, delle attrezzature idonee alla loro produzione e conservazione e anche dei formaggi per un peso di oltre 300 kg oltre a 350 litri di latte. In beneficenza 1,5 tonnellate di ortaggi sequestrati dal Noras al Mass di Catania. Gli agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana hanno consegnato al Banco Alimentare di Catania 1.540 kg di ortaggi vari da destinare a enti caritativi. La merce è frutto di un sequestro amministrativo eseguito dal personale del Noras, il nucleo operativo regionale agroalimentare Sicilia nel mercato agroalimentare del capoluogo Etnea, Mass. I carabinieri controllano un'officina, denunciato il titolare. I carabinieri della stazione di Giarre, unitamente colleghi del nucleo ispettorato del lavoro di Catania e dal personale dell'ispettorato nazionale del lavoro, hanno effettuato in mattinata diversi accessi e ispettivi ad attività imprenditoriali della zona. In particolare all'interno di un'officina meccanica sono state riscontrate alcune irregolarità che hanno portato alla denuncia del titolare, un 51enne gerrese, per il deposito incontrollato di rifiuti, nonché per emossa sorveglianza sanitaria dei dipendenti. Tra i dipendenti impegnati a riparare autovetture c'era un lavoratore in nero, privo di un contratto di assunzione, circostanza che ha fatto scattare per titolare la maxi sanzione di 3.600 euro e contestuale sospensione temporanea dell'attività, fino a quando quest'ultimo non provvederà a regolarizzare la sua posizione. Alle tardi, nella tarda mattinata di martedì 12 marzo, i tecnici della stazione Etnea Sud del soccorso alpino e speleologico siciliano sono intervenuti per il recupero di un ragazzino infortunatosi a causa di una caduta nella zona distante Rifugio Manfrè, sul versante sud dell'Etnea in territorio di Belpasso. Il giovane infortunato è stato recato tramite barella portantina fino all'ambulanza 118, presente sul posto e consegnato ai sanitari che hanno provveduto al trasporto in pronto soccorso. Catania, 11 marzo, il comandante del secondo gruppo navale permanente della Nato, in visita al prefetto di Catania. Nel pomeriggio dell'11 marzo, il prefetto di Catania, dottoressa Maria Carmela Librizi, ha ricevuto in visita di cortesia il contrammiraglio Pasquale Sposito, comandante del secondo gruppo navale permanente della Nato, unitamente al direttore marittimo della Sicilia orientale, ammiraglio Antonio Ranieri. Al capitano di fregata, Raffaele Martino, comandante di nave Morosini, impegnata nell'attività di addestramento Dynamic Manta, una delle più importanti e complesse esercitazioni della Nato che si svolge a largo delle coste orientali e meridionali della Sicilia. Slava Snow Show, dal 13 marzo in Sicilia. Lo Slava Snow Show, spettacolo poetico, universale e senza tempo, tornerà in Sicilia dal 13 marzo. Lo show sarà a Catania dal 13 al 17 marzo al Teatro Metropolitana di Catania e tornerà a Palermo, dopo dieci anni al Teatro Biondo, dal 20 al 24 marzo 2024. Previsti spettacoli pomeridiani e sereali. L'ideatore Slava è considerato il miglior clown del mondo e in questo show immagina un teatro che nasce dei sogni dalle fiampe. Un teatro ricco di speranze, sogni, di desideri e di nostalgie, di mancanze e disillusioni. Nove regioni della Russia sono state colpite da diversi droni ucraini, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Ci sono morti e feriti tra la popolazione civile, ma i dettagli ancora non si conoscono. Decine di attacchi sono stati effettuati sul territorio della regione di Somme. Gli attacchi hanno colpito la zona industriale di Kstowa, nella regione di Nisny Novgorod, dove è scoppiato un incendio in una raffineria del gigante petrolifero russo Lukoil. Le operazioni nell'impianto sono state per il momento sospese, in attesa che l'incendio venga domato. Un incendio è scoppiato anche in una raffineria di petrolio nella città russa di Arol, dopo che due droni hanno colpito un deposito di petrolio. 17 residenti sono stati evacuati da due edifici vicini. Un gruppo di ricognizione per le operazioni di sabotaggio ha cercato di attraversare il confine russo nelle regioni di Kursk e Belgorod. Si tratterebbe di militari russi appartenenti ai gruppi Legione Libertà della Russia e al battaglione siberiano che combattono per l'Ucraina. Tra di loro sarebbero almeno 60 i morti. Dal campo di battaglia al campo di gioco. Il calcio come terapia per i giocatori della prima squadra in Ucraina formata da ex soldati amputati a causa delle ferite riportate in guerra, che hanno trovato nello sport una via d'uscita. Dopo aver rischiato di morire al fronte hanno ritrovato la voglia di andare avanti non solo fisicamente ma anche dal punto di vista emotivo. Valentin ne è un esempio e come lui anche altri giocatori che abbiamo incontrato durante una sessione di allenamento. Anche per l'allenatore si tratta di una prima volta, non aveva mai allenato un squadra di questo tipo. Ma per loro non si tratta solo di un hobby, vogliono soprattutto vincere. Lo hanno dimostrato di recente nella prima partita di campionato in Polonia. Il campo da calcio offre loro una seconda chance dopo una perdita così importante. I tournament, per esempio, erano in Polonia. Per noi, forse, è stata una sorta di rivenza per mostrare che l'ucraina del spirito di ucraina è inbracabile. Io voglio mostrare che siamo forti e continuiamo a combattere. La squadra spera che questo sport possa diventare sempre più popolare nel paese, incoraggiando altri ex soldati a seguire il loro esempio. Giorgia Orlandi, Euronews, Leopoli, Ucraina. Vedere il documentario 20 giorni a Mariupol ricevere l'Oscar è stato un motivo di grande emozione per tutta l'Ucraina. Il resoconto in prima persona del giornalista dell'Associated Press, Mstislav Chernov, sulla prima fase dell'invasione russa nel 2022, è stato elogiato a livello internazionale per aver esposto la crudele devastazione della guerra. L'importanza del premio, che si aggiunge a una serie di riconoscimenti già ottenuti dal documentario, tra cui il Pulitzer, è accentuata dal contesto critico in cui si trova l'Ucraina. Le forze di Kiev sono a corto di munizioni, mentre le truppe russe cercano di avanzare nelle regioni occidentali e settentrionali. A meno di una settimana dall'ingresso ufficiale della Svezia nella Nato il 7 marzo scorso, cosa ne pensano gli svedesi della decisione di Stoccolma di diventare il 32esimo membro dell'Alleanza Atlantica. Le voci dei cittadini, esperti ed analisti ai microfoni di Euronews. La Svezia ha rinunciato alla storica neutralità in politica estera durata più di 200 anni. La Svezia ha rinunciato a partecipato in stato con gli uccalimenti degli altri inizioni di partecipano a partecipano inizia con gli altri adrizi. Svediani dobro pamti i 81. godinu, nel' ultimo, è il suo organismo di partenza, Sveglianni dobro pamte i 81 godinu prošlog veka kada je danes dana trajeo diplomatski spor Stokholma i Moskve upravo zbog jedne sovietske podmornice snuklearni moružje. Tra i contrari all'adesione, il fatto che una decisione così importante sia stata presa in modo antidemocratico, ovvero senza un referendum. You know, we had referendums about EU, about Euro, you know, we had a say about NATO, which is a much bigger thing, but I think it took a kind of big crisis like this war to convince this population, because we love neutrality. We had a general election in September, the decision to join NATO was made in May, and this means that the popular opinion obviously had not very much to say about the decision to switch completely our security policy. La Svezia si lascia alle spalle 200 anni di neutralità e non allineamento, è un grande passo, dobbiamo prenderlo sul serio, aveva detto il primo ministro svedese dopo la ratifica del Parlamento ungherese alla richiesta di adesione alla NATO da parte del... La nave della ONG spagnola Open Arms, carica di 200 tonnellate di aiuti umanitari per la striscia di gas, è salpata questa mattina da Cipro. L'obiettivo è quello di inaugurare un corridoio marittimo per consentire l'accesso a beni di prima necessità e alleviare la crisi umanitaria nell'enclave palestinese. Dopo diversi ritardi legati allo scarico e alla distribuzione degli aiuti a destinazione, l'imbarcazione è salpata poco prima delle otto ore italiana. Un segno di speranza, così l'ha definito la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che ha ringraziato il Presidente cipriota Nikos Christodoulides per la leadership dimostrata nella realizzazione di una rotta marittima umanitaria verso la striscia di Gaza. Greta Thunberg e una quarantina di attivisti hanno bloccato una delle entrate del Parlamento svedese lunedì. Hanno chiesto come recitava un loro striscione giustizia climatica subito. Come si chiede la prima volta per non. Il movimento di più grande più economica è di prima di più di più di più, come un pozz'è un pozzo, e noi crediamo che non siamo chiesti. Abbiamo ancora in migliorare in una stessa direzione. Abbiamo ancora avanti a una catastrozza climatica e rendiamo la vita di più pelle per per lesi che sono già affrontate cose del fronte di una crisi climatica e di altri sociali climatica. Alle sono protesti perché il movimento climatica è ancora ancora non trattata come un crisi. Il movimento di giustizia climatico ha stato chiesto di cambiare per decenni e non abbiamo mai avuto nessuno. Thunberg, che oggi ha 21 anni, è diventata nota nel 2018 proprio per le sue proteste settimanali davanti al Riksdag di Stoccolma. Grazie per la visione!